Benvenuti a Voyagers Cup, appuntamento del venerdì con notizie e curiosità di informazioni dal mondo del turismo. Oggi parleremo di impianti sciistici che riaprono dal 15 di febbraio, di un grande ritorno per la città di Brescia, la Vittoria Alata ed infine dello sciopero programmato dalle ferrovie dello Stato per il 9 di febbraio. Apriamo parlando degli impianti sciistici. Arriva l'ok del comitato tecnico scientifico al protocollo per la riapertura degli impianti da sci fissati per il 15 di febbraio. La coda quindi della stagione invernale in montagna potrebbe limitare i danni. Il comitato ha detto sì alla riapertura in zona gialla, mentre esclusa la riapertura nelle altre zone colorate, ovvero l'arancione e il rosso. Ad oggi soltanto l'Alto Adige, tra le regioni alpine, dovrebbe tenere ancora chiugi gli impianti. Il Via Libera scatta il 15 febbraio, anche perché è la data che coincide con la scadenza del divieto di spostamento tra regioni. È stabilito un tetto massimo di skip pass giornalieri, acquistabili online, evitando le code alle biglietterie. Il numero massimo degli skip pass giornalieri dovrà tenere conto però anche degli abbonamenti mensili e settimanali già emessi. Verrà assicurato il distanziamento interpersonale di un metro e la mascherina chirurgica per tutti gli occupanti delle piste da sci, sia che facciano sci, sia che invece circolino liberamente. A gestire l'organizzazione dei flussi dovrebbero essere i gestori degli impianti, mentre per quanto riguarda la vigilanza e l'ordine pubblico ci penseranno le autorità di pubblica sicurezza. Per quanto riguarda poi bar, ristoranti e naturalmente le baite sulle piste, si applica il protocollo della ristorazione, ovvero numero massimo di ospiti all'interno della struttura applicato fuori, obbligo di misurare la temperatura, accesso accompagnato al tavolo e consumazioni solo da seduti. Permane il divieto di assembramento. Ovunque la parola d'ordine sarà prenotare, prenotare, prenotare. Oggi vi portiamo a scoprire un tesoro, un bellissimo tesoro che rientra nella sua città natale, ovvero Brescia in Lombardia. Dal 4 di febbraio è possibile tornare a vedere la stupenda statua della Vittoria Lata, dopo due anni di ristauro a Firenze. Il simbolo della città è tornato, ma non solo. Per valorizzare l'opera è stato creato un allestimento museale ad hoc al Capitolium, dove è custodita presso il Parco archeologico di Brescia Romana in centro città. L'area è patrimonio UNESCO. Per festeggiare il ritorno della Vittoria Lata, fino il 26 di febbraio, l'ingresso ai civici musei della città di Brescia è gratuito per tutti. L'area archeologica, dove c'è la Vittoria Lata, è aperta dal martedì al venerdì dalle 10 alle 18. Bisogna prenotare anche qui su www.bresciamusei.com. Infine, l'ultima notizia di oggi riguarda lo sciopero proclamato il 9 di febbraio dalle ferrovie dello Stato italiano, dalle ore 9 alle ore 16.59. Non sono previste modifiche alla circolazione per i treni di lunga percorrenza, mentre per i treni regionali potrebbero verificarsi variazioni e cancellazioni. Quindi raccomandiamo la massima attenzione ed informarsi prima di prendere i recarsi stazione. Questa era l'ultima notizia per le Voyager's Cup di oggi venerdì. Vi do appuntamento alla prossima edizione, che è lunedì, e vi ricordo che potete porci domande a chiarimento o anche richieste di ulteriori informazioni seguendoci sulle pagine social e naturalmente su Instagram e qui sempre su YouTube. Grazie e alla prossima!